La Nigeria manda al macero e sotterra più di un milione di vaccini scaduti. Voglio garantire ad ogni nigeriano che gli eroi di oggi sono in realtà gli operatori sanitari di prima linea. Quando questi vaccini ci sono stati offerti sapevamo che avevano una breve durata di conservazione ma vivevamo in una situazione in cui la fornitura era molto scarsa. Dall'epoca degli accordi ad oggi in effetti gli equilibri degli approvvigionamenti sono cambiati. Non erano disponibili a causa del nazionalismo vaccinale. Abbiamo avuto paesi sviluppati che si sono procurati questi vaccini, li hanno accumulati nei loro magazzini e poi una volta vicini alla scadenza ce li hanno offerti. Un gesto dimostrativo mentre nel paese le infezioni crescono del 500%.